Il convegno con la presenza di professionisti che giungono anche da fuori Italia conferma che la Basilicata anche a questo livello può diventare un centro di riferimento? Sì, direi proprio di sì. Negli ultimi anni siamo riusciti a creare questi legami con strutture estere, con strutture d'eccellenza in Italia. L'esempio ne è oggi. Oggi abbiamo tre relatori internazionali. Quindi questo deve essere non la fine ma l'inizio del nostro percorso perché anche in Basilicata possiamo creare, possiamo fare attività scientifica di alto livello. Dottore, al di là dei traumi, quali sono le cause di questa patologia che è sempre più ricorrente? La patologia della spalla e precisamente della cuffia ai rotatori può essere anche degenerativa. Consigli che la maggior parte delle lesioni della cuffia ai rotatori sono di natura degenerativa. Quindi i pazienti over 60 possono avere una lesione di questi tegnini anche senza un evento traumatico. L'interventistica ha fatto dei grossi passi in avanti. Ci sono altre novità all'orizzonte? Diciamo che il trend è notevolmente cambiato ultimamente perché mentre prima la chirurgia riusciva ad occupare la percentuale maggiore di tecnica per risolvere il problema, oggi riusciamo con programmi riabilitativi accurati a risolvere il problema senza ricorre eccessivamente all'uso della chirurgia. Per fare prevenzione, quali consigli lei dà? Sicuramente bisogna far sì che la scapola, la spalla lavori in maniera ottimale e quindi preparare il paziente a gestire anche le attività quotidiane. Le faccio un esempio banale. La persona di 50 anni, 60 anni che vuole fare un'attività sportiva dilettantistica perché la domenica va a giocare a tennis, è importante che prima di fare questo sia preparato per fare questo e quindi che la prevenzione e la preparazione a questo tipo di sport sia ben accurata. La fase postchirurgica, si riesce con la riabilitazione a recuperare completamente la funzionalità dell'arto? Non è sempre così perché dipende molto da quando è stato fatto l'intervento, perché se l'intervento viene fatto subito, cioè quando c'è una lesione tendinia, quindi presi nei tempi giusti, ma se la lesione tendinia il chirurgo la ripara dopo 8-10 mesi, quindi la qualità del tendine è scarsa, anche il risultato riabilitativo non sarà eccellente. Comunque lo scopo della riabilitazione è quello di recuperare sempre tutta la funzionalità dell'arto, quindi sia facendo un lavoro di prima articolare passivo, poi un lavoro di bilanciamento sulla cuffia dei rotatori e degli scapoli toracici per arrivare fino a un lavoro di potenziamento per poi arrivare alla fase ultima che è l'attrezizzazione per quanto riguarda un giovane, invece per l'anziano a un recupero funzionale nella vita quotidiana.